Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella serata di lunedì 2 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi, il celebre quiz show condotto per la prima volta da Stefano De Martino, che ha preso il posto di Amadeus. La polemica sui social è scoppiata ancora prima della fine della diretta. La prima puntata di Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino è finalmente andata in onda. Il presentatore napoletano si è dimostrato abbastanza bravo, ma non è riuscito ad evitare la polemica. Il grande pubblico affezionato ad Amadeus ha notato una mancanza di rispetto e sui social è iniziata una battaglia tra sostenitori ed odiatori dell'ex di Belen. I fan che erano collegati con Affari Tuoi fin dai primissimi secondi della puntata del debutto si aspettavano che Stefano De Martino facesse un saluto o almeno un accenno ad Amadeus. Questo è il motivo per cui è scoppiata la polemica. Su Twitter fioccano commenti che suonano così. Stendiamo un velo pietoso sulla damnazio memoriae nei confronti di Amadeus, nemmeno un saluto o un ringraziamento. Oppure non so di chi sia la colpa, ma siccome Amadeus è in salute e non ha ucciso nessuno, si poteva iniziare con un saluto a chi ha lasciato in eredità una Ferrari televisiva. O ancora, io non voglio esprimermi sul cambio della conduzione, ma è strano che non sia stato nemmeno nominato Ama, come fosse Voldemort. Se i fan avessero atteso la fine di Affari Tuoi, invece che riversarsi smaniosamente sui social, la polemica si sarebbe evitata. Sul finire infatti Stefano De Martino ha nominato Amadeus, seppure in modo scherzoso. E come direbbe anche il buon Amadeus,